Convocato dalla Giunta, si è svolto a Sassari un incontro sullo stato di attuazione del protocollo d'intesa firmato nel 2011 tra Regione e Governo Eni e Novamont su un'iniziativa di reindustrializzazione dell'area di Porto Torres. Erano presenti il Presidente della Regione, le Assessore dell'Industria della Difesa dell'Ambiente, il Sindaco di Porto Torres, rappresentanti dei comuni di Sassari e Alghero, l'amministratore della provincia di Sassari, i rappresentanti delle aziende Eni che operano nel territorio, Versalis e Sindial, di Novamont, Matrica e le segreterie di CGL, Cisle e Will. In primo piano, gli impegni dei partner industriali coinvolti nel progetto della Chimica Verde, deludenti le relazioni degli industriali. C'è una difficoltà che riguarda rapporti tra i soci di Matrica rispetto alla realizzazione della terza fase, ha detto il Presidente Pigliaro, e la Sardegna e Porto Torres non possono pagare il prezzo di un problema che non riguarda la Regione. C'è un accordo del 2011, siglato da tutti, e noi esigiamo che sia rispettato e che si trovi al più presto una soluzione ai problemi emersi nell'incontro di oggi. Il protocollo per la Chimica Verde a Porto Torres, ha detto Maria Grazia Piras, è un piano di rientro di un debito di deindustrializzazione che Eni e Novamont hanno sottoscritto e che devono al territorio. Più pessimista il sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler, oggi ha detto che le aziende della Chimica Venture Matrica, cioè Novamont e Versalis, hanno dichiarato ufficialmente che non possono garantire il rispetto del protocollo d'intesa del 2011 e proseguire con gli investimenti della fase 3, prevalentemente a causa di diatribe societarie. Il territorio si deve ribellare immediatamente, prosegue Wheeler, e opporsi a quella che si sta rivelando una grande presa in giro per Porto Torres e per tutto il nord Sardegna.